E' arrivato questa mattina d'Avellino Francesco Bertolo del Picerno e con un passato a Potenza e Siracusa. Il 29enne difensore arriva in Irpinia a titolo definitivo. Nelle prossime ore toccherà ad Agostino Rizzo, centrocampista classe 1999 del Livorno, raggiungere il gruppo di Capuano. Lo scorso anno, perno della mediana del Palermo primavera, il calciatore è legato ai Toscani fino al 2021. Scambio dei documenti è avvenuto in mattinata con il centrocampista che raggiungerà l'Irpinia nel pomeriggio. Raggiunta in intesa anche con Francesco Fedato, ex Bari e Modena, ma il Gozzano oppone resistenza. Il club piemontese ritiene il calciatore fondamentale. L'Avellino con i suoi procuratori sta lavorando a ritmi serrati per portarlo in Irpinia. Nella serata di ieri al club piemontese erano stati proposti Albadoro, Alfageme e Caric, ma nessuno dei tre interessa. L'operazione potrebbe farsi grazie all'aiuto di qualche club di A, pronta a girare una punta ai torinesi che hanno dei buoni rapporti con Napoli e Parma. Capuano cerca con insistenza un portiere. Nei desideri del tecnico di Pesco Pagano c'è sempre Richard Marcone, estremo difensore della Ternana, ex Rieti, ma non bisogna nemmeno perdere di vista Andrea Dini del Parma, che era impresti dal Traponi, e Gianmarco Vannucchi della Salernitana con un passato all'Alessandria.